...e cercare sempre di migliorare, è così che si progredisce, se no si rimane fermi. Abbiamo un telespettatore in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Carlo. Buonasera Carlo. Senta, io credo che qui non ci andremo in... scusatemi, non ci andremo in Champions League perché c'è tutto il sistema che è contro. Il pareggio della Roma a Torino mi sembra che sia comunque una cosa che sia abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti. Poi una cosa che vorrei denunciare è che guardando le trasmissioni ho sentito dare proprio addosso anche a persone della Fiorentina. non so se avete sentito voi controcampo domenica scorsa che ce l'avevano con Bopi. Con? Con chi? Con Bopi, il cane di Dio. Eccoci, perfetto. Noi chiaramente ci dissociamo da questo amico simpaticone. Pronto? Chi abbiamo in linea? Buonasera. Buonasera. Buonasera.